Sempre in alto i nostri colori Sventono le bandiere rosso-verdi Ragazzi, già siamo in tanti E poi ancora devono arrivare altri Pullman Con le macchine Questa è solo la prima ondata Stiamo aspettando che entrano le squadre Ancora la Ternana deve iniziare il scaldamento E' uscito solo il portiere, gli annarilli E adesso stiamo aspettando che entrano le squadre La Ternana si ama Eccolo l'amore dei colori rosso-verdi Eccolo l'amore dei colori Siamo tornati a viaggiare Siamo tornati nei campi di tutta Italia Questo è il settore ospiti E questo è il campo, devo dire, bellissimo Devo dire, veramente bello Io mi taccio, ragazzi Faccio sentire i cori delle pere Stavamo parlando del campo Devo dire, veramente bello lo stadio Stadio veramente adatto al gioco del calcio Seggiolini confortevoli Stadio coperto Ficino al campo Ecco le pere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ancora le formazioni non le ha date Però non vedo Sì, ci sono tutti, ragazzi I disponibili Anche il Folletto, ragazzi Anche Falletti si sta riscaldando Adesso si gioca un noio Questo non lo so Però si sta riscaldando E questo è un buon segno Calcia, fa tutto Ok, ragazzi Questa è una buona notizia Il Folletto in campo Buono, buono Buono, ragazzi Siamo pronti per la battaglia Il Folletto in campo Ragazzi, la musica è sempre quella I punti d'all'entrana vengono sempre Per reais Il Folletto in campo Noi Grazie a tutti Per davvero Dio ragazzi, il nostro vincere lo sa, noi giochiamo sempre in 12, quando fa la formazione signor Rugalelli lo sa, l'Aternara gioca sempre in 12. Rugalelli lo sa, l'Aternara gioca sempre in 12, quando fa la formazione signor Rugalelli lo sa, l'Aternara gioca sempre in 12, quando fa la formazione signor Rugalelli lo sa, l'Aternara gioca sempre in 12, quando fa la formazione signor Rugalelli lo sa, l'Aternara gioca sempre in 12, quando fa la formazione signor Questa è la nostra mamma, la nostra famiglia, che sappiano i giocatori quanto affetto, quanto l'amore. Non li lasciamo mai soli. Io spero che venga apprezzato, come lo sono sicuro, dai nostri giocatori. Sto a fare un video, arriva la pitica, ragazzi. Eccola, eccola qua, la nostra grande. Ciao, grazie. Sto a fare un video, perché per Luciano più che altro, che è rimasta attenti. Eh sì, perché gli sta arrivando la roba della televisione. Il resto Terni sarà dotata, ragazzi, di una televisione tutta per Terni. Terni, la Ternana, avrà la tua televisione. Terni e la Ternana, finalmente una televisione tutta per noi, perché Terni lo merita, ragazzi. Non meritava di rimanere senza televisione. È apposta di noi. Va bene, ragazzi. Ci sentiamo da poco per l'inizio della partita. Ciao a tutti. Ciao, ragazzi. Ci risentiamo per l'inizio della partita. Ciao. 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 questi colori, verso questi giocatori Certo che chi non c'è si è mancato una delle trasferte gloriose della Dernara, il popolo rottoverde sta tornando a invadere l'Italia Invection su Frosinone Valla a vedere, fa gira gira Eccole ragazzi, i flick non si dimenticano E' una pialandra poi Pochi giorni fa me ne scapparono fuori pure quando si passava la piasseria Ah, è il giocatore Venga, tuoi voti e scaipo Venga, tuoi voti e scaipo Venga, tuoi voti e scaipo Venga, tuoi voti e sca Gueboard Venga, tuoi voti e scaipo Venga, tuoi voti e scaipo Pure in f � Хорошо, ilanderà Venga, tuoi voti e scap premier Ma, tuoi voti e scapare Venga, tuoi voti e scapi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' questo il muro dei diffusi rosso-verde. E' questo il muro rosso-verde. E' bello vedere. Ancora i giovani allo stadio, i ragazzi allo stadio. E' bellissimo. Finalmente il ricambio. Finalmente i giovani si riavvicinano alla Ternana. Questo mi fa un piacere enorme. Questo mi fa un grande piacere vedere i ragazzi che si avvicinano ai colori rosso-verdi. Non sono i vecchietti come noi. Non sono i vecchietti come noi. Non sono i vecchietti come noi. E' bello vedere i ragazzi che si avvicinano ai colori rosso-verdi. E' bello vedere i ragazzi. E' bello vedere i ragazzi che si avvicinano ai colori rosso-verdi. E' bello vedere i ragazzi che si avvicinano ai colori rosso-verdi. Ragazzi, molti stanno mandando. Ma perché sto facendo questo video? Questo video lo faccio per stare vicino a tutti. A tutti quelli che stanno a casa ragazzi. Li vorrei tutti qua. Li vorrei tutti vicino. Ritornare ad essere quello che eravamo. Il popolo. Il popolo rosso-verde. Fratelli accumulati sotto i stessi colori. E' bello vedere i ragazzi che si avvicinano ai colori rosso-verdi. Quindi è molto bene io. E' bello vedere i ragazzi! E' bello vedere i ragazzi che si avvicinano ai copriano ai tutti. E' bello vedere i ragazzi che si avvicinano ai proteti. E' bello vedere i ragazzi che si inti che vesti a fare di inizare i ragazzi che si è americano ai citi. E che si cazano ai parti che si avvicinano ai Reid. Devo dire che veramente sono affascinato da questa struttura, vediamo che prezzo anche a terra avremo qualcosa del genere, ce lo meritiamo, amministratori, signor sindaco, sentite bene, aprite le orecchie, ce lo meritiamo lo stadio così, purtroppo glorioso, ma fatiscente il stadio che abbiamo, noi così, tutto coperto, tutto in copertura, devo dire che hanno fatto veramente un gran lavoro, stadio completamente coperto, con le tribune completamente coperte, veramente eccezionale, fondo del campo buono, buono, veramente buono, il manterbozzo veramente buono, proprio contento, guardate, un bel impianto, speriamo che tutto vada bene, ma sono sicuro che tutto andrà bene, che possiamo anche in minima parte aiutare i ragazzi in questa battaglia. Va bene, ci sentiamo tra un po' ragazzi, per l'inizio della partita, ciao a tutti!